Nulla di fatto per la gara per l'affidamento della gestione delle strisce blu su aree scoperte a Teramo. Le quattro ditte che avevano offerto la propria candidatura in quella bandita dal commissario non sono idonee, quindi la commissione giudicatrice è stata pertanto impossibilitata a valutare gli elaborati e assegnare i punteggi. Adesso il sindaco Gian Guido Alberto convocherà l'unità di progetto e valuterà un'altra procedura, la nuova gara che comprenderà sempre la clausola sociale della salvaguardia dei posti di lavoro come elemento imprescindibile e avrà come prospettivo il medio e lungo termine e dovrà essere finalizzata all'abbattimento dei costi e alle tariffe per gli utenti. Tutto da rifare, nessuna delle ditte, delle cooperative che hanno partecipato al bando ha presentato un'offerta tecnicamente idonea sotto il profilo formale e sostanziale. Questi sono i risultati che mi sono stati comunicati, sono stati con le amministrazioni appunto dalla commissione, quindi sulla base dei verbali. Chiaramente si trattava di un bando che fu avviato dal commissario, che aveva determinate caratteristiche, una durata limitata nel tempo e inevitabilmente, essendo stato approvato appunto nella fase commissariale, non era dotato e caratterizzato da una visione di lungo respiro, strategica e programmatica. Per questa ragione noi abbiamo avviato da subito la riconvocazione dell'unità di progetto in tempi appunto strettissimi per, innanzitutto per effettuare le valutazioni anche tecniche e operative derivanti appunto dal venir meno della gara, perché alla luce di queste considerazioni poi dovremmo ovviamente effettuare una programmazione successiva. Ma anche e soprattutto per fermarci un attimo e porre le basi per una visione strategica del piano dei parcheggi complessiva del nostro territorio, che sia legata ad una programmazione di più lungo respiro, tenendo in considerazione anche le tante esigenze del territorio, dei commercianti e anche una revisione finalmente del piano urbano del traffico, che come sappiamo si è fermata diversi anni fa, e una revisione complessiva del piano della sosta che deve tenere in considerazione anche altre aree del territorio che al momento sono sotto valutazione.